Ciao ragazzi, bentornati su un nuovo video, siamo su Omegli come avete potuto vedere dai vari tipi che si incontrano qui su Omegli Sta riprendendo qua? Penso di sì Agap, fanculo mamma ho 13 anni Mamma mia, ce ne aveva 8 Oh, anvedi Mamma mia Sei bello, eh? Sei un porco Eh? Non so, percorso Eh? Spesso, scrivendo Ma io non capisco, cioè, hanno il microfono ma non lo usano Ma Fattiva, perché non parli? Ma perché i porchi, i porchi fanno Ma come cazzo Ma come cazzo? Anche noi Anche noi Eh? Bitch Yo, bitch Mi spacchi la faccia A tutti gli italiani sono come me Mi spacca la faccia 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 Su, cavita Dai, non è successo niente Mamma mia Sì Satana Satana è con noi Sì 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 Ma come cazzo stavo? Ma quello Che cazzo è pippato? Madonna mia Che gente Hai fatto bene Affermate Ma cosa, ma cosa Ma cosa Senti, ma Che stai facendo? Dimmi un po' Allora Sto giocando La musica E Sto prendendo La musica Ah, vabbè Stai impegnato Insomma Dai A che stai giocando? Che stai giocando? Il code Quello nuovo Quello nuovo? No, mi fa cagare E a che ora Stai giocando? Non mi dico Ah, il modo Il modo Il modo Il modo Il modo Il modo Tu sì Che capisci E senti Dai Dice qualcos'altro Dai Che stai giocando? Eeeh Oh Sì 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 Ma se non vi fate vedere in faccia Stanzia di credibili Che veste Da sentire? Che problema avete? Eeeh Vabbè Senti Se parlate Io me ne vado Svegliete Bella Yo Bella Ti a posto? Sì Bene Senti Ma lo sai che Io stavo a parlare con Favij Prima Senti Di granola No Sì 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 Vabbè Sì Porca roba Veramente? Eh sì No Siamo finti No Sì Vabbè Dai No Vedi camera mia Eh Stavamo registrando Sì Siamo registrando Anche noi Dio Dio Hai fatto il danno Sì Infatti No Non si cosa più Comunque Stiamo registrando Anche noi Senti Dite ciao Che state nel video Eh Ciao 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 Fateci qualcosa Sì Sì Senti Fateci qualcosa È bello Se non vi mettiamo nel video Ballate Fate qualcosa Tutte e due Tutte e due Dai che parte da dubstep Dai Duns 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 Non è dubstep Sti casi Aspetta Il beat di Klaus Vabbè È stato un piacere E ora facciamo un altro giretto Perché Tanto sei ripetato Tu prendi il numero di thread Sì Aspetta No aspetta Tu prendo Aspetta Veramente però Sì Sì Certo Allora 3 2 8 Aspetta Un attimo Uno Uno Sì Due 34 56 No per serio Per serio 78 Ripeti 3 2 8 12 3 2 8 3 2 8 12 3 2 8 12 Sì 34 5 Sì Sì 8 Ok Ciao 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 Ma tu stai dentro al bagno Stai C'è la cadena di ero C'è la cadena di ero Oh Fai un cenno se esisti Dormi Ah grande Non c'è il microfono Cioè perché faccio così Non c'è il microfono Fai così anche te Batti Batti Le mani Sì E' Trollata La mia Ah 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 Buonasera Ah a posto a posto sei su youtube va bene si ma guarda che tu puoi parlare che cazzo scrivi se puoi parlare vabbè niente se ci fai un balletto è meglio perché perché almeno possiamo mettere una clip figa quindi non so fai anche se fai ciao ciao con l'altra mano di ciao ok adesso di adesso batti le mani adesso batti le mani adesso fai una giravolta fai la giravolta dai ma no vuol dire no no ti fai la giravolta così così guarda come si diverte dai sto aspettando non me ne vado vai non lo sa che se ne fanno sentire adesso si ah ma sei pure di roma che c'è un casino aspetta va bene a posto noi ci becchiamo al prossimo giro e il 22 è roma tube se vuoi venire va bene ciao va bene ragazzi il video è finito speriamo vi sia piaciuto lasciate un like un commento in descrizione tutti i profili quindi bella bella butta e il macchio mamma mia orrenda